Un matematicien de van les siècles, un matematico di fronte al secolo, Schwarz, Loren Schwarz, che non è un matematico mio maestro, però lui ha scritto un diario al quale io mi sono ispirato. Il suo diario, il matematico de van les siècles, ha fatto sì che io mi sia ispirato a lui. Perché? Perché Loren Schwarz è un matematico ebreo, di famiglia ebrea, ha sposato una donna ebrea di grande famiglia, di due famiglie, eccetera. Lui racconta, io sono nato in una famiglia di gente di destra, poi c'è stata la persecuzione, sono passato all'estrema sinistra, poi dall'estrema sinistra sono passato ai trotschisti, dopo i trotschisti non mi andavano bene, sono passato ai comunisti. I comunisti non mi andavano bene, però sono sempre stato per la libertà, per la democrazia, per il sociale, per la difesa dell'ambiente, sono stato sempre uno di questi grandi progressisti, diciamo. Allora Schwarz, quando è tornato dall'estero, perché non stava in Francia, stava all'estero, ha incontrato Grotendich e gli ha detto, sai Grotendich, io sono tornato, quando io stavo fuori non facevo matematica, scappavo, avevo pericoli da salvare, facevo politica, io non ho più lavorato, però quando sono tornato, anche se erano passati due o tre anni, ricordavo tutto di matematica. E allora Grotendich gli ha detto, stai attento, non fidare della tua memoria, scrivi. E allora lui ha chiamato Isabella, una scrittrice, che ha preso questi appunti suoi e li ha messi in forma letteraria e ha scritto questo libro. Io, che sono una scimmia, imito gli altri, faccio un diario anche io. E mi sono messo a fare un diario. E scrivo una cartella, un'altra cartella, due, tre, dieci, venti, venticinque, trenta cartelle piene di pensieri, piene di miei osservazioni, miei cose, eccetera. Dove c'è però un mare di cose. Ho fatto venticinque, trenta, trentacinque cartelle piene di materiale, che sta però tutto ammucchiato in un calderone. I posteri o lo manderanno, oppure ne faranno poi, li prenderanno, li ricuciranno, e verrà fuori un diario come quello di Schwarz. E allora io mi sono ispirato a Schwarz e l'ho messo tra i miei colleghi.